Anticipazioni il segreto, 26 febbraio, 4 marzo 2017. Carmelo e Lias Alleati. Francisca contro Raimundo. Camila è intenzionata ad aprire un negozio e cerca di avvicinarsi al marito mentre Carmelo ed Elias collaborano per risolvere il problema dell'irrigazione della miela marga. Rafaela cerca di sedurre Matias, che è sempre più convinto di seguire Raimundo. Quest'ultimo, dopo una manifestazione, scopre che Francisca ha fatto una denuncia, mentre tra Camila ed Elias cresce la complicità. Il segreto, anticipazioni puntate. Approfondimento. Camila decide di aprire una profumeria ed Elias supporta il suo progetto, nel quale vogliono coinvolgere anche Beatriz. Raimundo e Matias sono pronti a restituire le matrici per falsificare le banconote quando Emilia ed Alfonso scoprono il loro segreto. Alfonso ed Emilia vietano a Raimundo di coinvolgere Matias nei suoi traffici con gli anarchici. Carmelo chiede aiuto ad Alfonso per individuare il punto in cui Ernando ha deviato i canali di irrigazione che hanno causato penuria di acqua a miela marga. Mauricio riferisce dell'incontro tra Alfonso e Carmelo a Francisca, la quale gli impone di scoprire cosa si siano detti. Camila e Beatriz si preparano a trascorrere una giornata la Puebla con Elias, ma Camila insiste con Ernando affinché vada anche lui. Gracia e Mariana seguono con apprensione i lavori della loro boutique. Raffaella sembra avere un interesse particolare per Matias. Raffaella sfrutta ogni occasione per sedurre e mettere in imbarazzo Matias. Ramiro, innamorato di Raffaella, cerca di parlarle ma la ragazza gli sfugge, tanto da far supporre a Ramiro che sia stata l'usario a metterla in guardia dal suo corteggiamento. Dolores racconta a Camila come Ernando si stia comportando male con tutti i paesani e soprattutto con Severo Santa Cruz. In previsione della processione per la settimana santa, Don Berengario chiede sia Dolores che a Francisca di procurare una statua da portare in processione. Camila e Dele sanno una conversazione sulle loro vite private. Ramiro cerca un chiarimento con Raffaella, ma lo respinge. Raimundo torna a Puente Viejo e Francisca gli comunica la telefonata ricevuta dal governatore. Onesimo si finge scultore e imbroglia ancora una volta i Miranar. Camila e Beatriz finiscono di allestire il negozio, ma Elias crede che i paesani non andranno a fare compre lì. Carmelo decide di perlustrare i terreni di Ernando per deviare le acque canalizzate. Durante il sopralluogo incontra Elias intrappolato in un pozzo. Ernando e Camila si baciano per la prima volta. Carmelo aiuta Elias e questi, per riconoscenza, gli promette che cercherà di convincere Ernando a ridare a Severo l'acqua per l'irrigazione delle coltivazioni di miel ammarga. Camila non comprende i motivi della freddezza di suo marito che, dopo averla baciata, la allontana bruscamente. Rogelia cerca di far ragionare Ernando, ma inutilmente. Raimundo in occasione della visita del segretario alla giustizia, decide di organizzare una manifestazione. Raffaella fa una misteriosa telefonata. Camila continua a scrivere lettere ad uno sconosciuto destinatario. Mariana e Gracia sono al settimo cielo per i preparativi dell'apertura del loro negozio. Purtroppo Gracia deve combattere con Dolores, che fa l'offesa visto che non è stata consultata. Elias cerca di affrontare la questione dell'acqua con Ernando, ma quest'ultimo non vuole dargli retta e continua a portare avanti la sua vendetta contro i paesani di Pentevierio. Tra Camila ed Elias c'è una sorta di complicità. Ernando non si fa sfuggire nulla e affronta subito il suo rivale. Matias è più che convinto di voler aderire alla protesta a cui parteciperà anche Raimundo. Dolores aspetta con ansia una telefonata da parte di Pedro, affinché le faccia gli auguri per l'onomastico. Quando ormai ha perso le speranze, riceve dal marito un regalo inaspettato dalla Russia. Ernando affronta Elias. Sospetta che il ragazzo stia corteggiando sua moglie e decide di allontanarlo, vietandogli di pranzare insieme alla sua famiglia. Mentre parla con Camila, Elias improvvisamente sembra aver trovato la soluzione per l'irrigazione delle terre dei Santa Cruz e cerca Carmelo per illustrargliela. Raimundo viene a sapere da unesimo della denuncia fatta da Francisca, quindi si reca alla villa in cerca di spiegazioni.